vabbè arriva no? arriva anche l'altra parte eh, io sono di sospeso qui se no mi finissi filmato guardate che arriva il gruppo eh ho capito però io pensavo erano vicini ci sono tre in fuga c'erano guardate che ti sono ancora ti guardavo la micchera non c'è allora sospendo che dici ma passa la polizia per ci sono e poi arrivano vabbè 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 magari la 22 secondi conti a 22 dai ma sono anche di più e e arrivano la polizia stradale con la bandiera la polizia rola oggi vediamo poco o qui ne passano più no via qui ma ora si capisce niente ma poi fai che cosa o balla l'italiano che sto registrando eccola la paura di poco di poco la stara fine corsa fine corsa fine corsa